Allora, siamo qui con la signora Laura che oggi ci parla di un bellissimo progetto, addirittura possiamo chiamarlo un sogno suo che si è realizzato, Espace Young. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una mostra delicata a giovani, giovani artisti under 30 rigorosamente e un progetto in cui gli artisti possono presentarsi qui all'Espace della Stanza, iscriversi e che non ha condizionamenti tematici per lasciare ai giovani totalmente e assoluto spazio alla creatività. Perché è proprio una caratteristica, credo, dei giovani, avere questo grandissimo fermento creativo, anche incanalarlo non mi sembrava una cosa giusta. Che cosa possono fare questi giovani o come possono dimostrare la loro creatività? Dipingendo, facendo delle sculture, oppure con delle fotografie, computer grafica, videoproduzione. Ecco, questi sono i settori in cui noi abbiamo un po' circoscritto l'attività di chi si sente un artista in fieri, oppure magari under 30 c'è già qualcuno che le sue prime affermazioni le ha avute. La scadenza è abbastanza vicina, entro il 31 ottobre, 31 ottobre, consegna perché, come vedete e come sapete, l'operazione che si chiama 11111111 Space Young non è scelta a caso, perché l'111111 sta per 11 novembre alle ore 11 e 11. Ogni anno la mostra viene aperta ed inaugurata esattamente in quella data. E non dite che poi ve lo siete dimenticato, perché è una data così, non si può dimenticare. E diciamo anche ai giovani che magari vorranno iscriversi, come verranno premiati? Ci sarà un vincitore? Cosa vincerà? Allora, intanto chiunque fosse interessato può passare il pomeriggio a qui, all'Espassa la stanza, in via Orazio, a Bolzano, perché abbiamo fatto un giornalino per l'edizione dell'anno scorso, in cui ci sono tutti i vincitori. Bene, diciamo che la giuria sceglierà un vincitore assoluto e questo vincitore, l'anno dopo, potrà disporre della galleria per un intero mese con una sua mostra personale in cui noi gli faremo i poster, tutte le affissioni in città, gli inviti, l'attività di ufficio stampa e quindi sembra un momento molto bello per l'attista di poter realizzare se stesso. Quest'anno naturalmente, fra poco, la settimana prossima, sarà Cornelia Lochman, la vincitrice dell'edizione 2013, ad esporre qui. Insomma, un'opportunità mica da poco, possiamo dire, invitiamo i nostri giovani, visto che siamo qui in video, a iscriversi. Vi aspettiamo, facilissimo, dove trovare il regolamento e il formulario di iscrizione? Basta andare sul sito lastanza.info, la prima voce di menu a sinistra è Espace Young, lì dentro si trova tutto.